Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Riva, 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 tiro, and a go! Riva, Riva ha segnato, 3 a 2 per l'Italia. Da per scadere il primo tempo supplementare, 3 a 2 ha segnato Riva. Che a voi ritorni, fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostra prono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiace. Diamo ora uno sguardo alla classifica cannonieria anche quest'oggi. Per quanto riguarda le prime posizioni, Riva, Vitali, Chiaruggie e Prati, che sono Riva primo con 13. Il singhiozzo di quelle labbra smorte, che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso, l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, Per quelli che hanno vissuto La squadra contava su di me, e allora era bello per me, ma soprattutto era bello anche per i miei compagni, quando ti venivano ad abbracciare, a dirti bravo, ma sono belle cose. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento Grazie a tutti Grazie a tutti